Prospettive per il prossimo anno? Finirlo, finirlo bene, però abbiamo iniziato un po' male perché la prima cosa che ci hanno detto è allora ragazzi domani, prossima settimana facciamo due verifiche Subito così? Sì certo subito così, allora... Quindi non siete molto carichi? No, in questo momento no, però è stato bello, bello, bello Ricominciare è sempre comunque, è bello rincontrare i propri compagni? Sì, assolutamente sì, dopo tre mesi che non ci vediamo, anche se magari per un motivo o l'altro non ci siamo visti, quindi sì Ultimo anno? Ultimo anno Com'è andato il primo giorno? Ah dai, è abbastanza bene, è sempre un po' faticoso riprendere comunque, soprattutto il primo giorno dopo tre mesi in cui ti alzavi tardissimo andavi a letto sempre tardissimo, adesso è un po'... però dai, si può fare, il primo giorno è comunque sempre abbastanza tranquillo I professori? Eh, simpatici, sono sempre loro, quindi fortunatamente se cambiavano era un po', l'ultimo anno, professori nuovi non è il caso diciamo Voglia di ricominciare? Per niente Una parola per definire il primo giorno di scuola? Caotico Beh, penso che possa racchiudere un po' il tutto, alla fine il primo giorno di scuola non è che si fa chissà cosa, più che altro è tanto è il bello di rivedere i propri compagni, per alcuni anche i professori, scherzare e non pensare a quello che ci sarà i giorni successivi Siete preoccupati per la quinta? Io non ci penso, penso a vivere un po' il momento, meglio vivere il presente e non il futuro perché sennò dopo non esco più di casa Com'è andato il primo giorno di scuola? Eh, benissimo Con i professori? Eh, tranquilli, bravissimi Voglia di ricominciare? Sì, tantissimo voglio ricominciare Com'è andato il primo giorno di scuola? No, benissimo, sempre l'emozione sia per loro che per noi Come ha visto i ragazzi? Belli, motivati, dai, motivati e emozionati anche loro Quindi voglia di ricominciare? Sì, 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 molta, molta E voi docenti avete voglia? Assolutamente sì, non vediamo l'ora Prospettive per 2024-2025? Eh, vediamo, dai, ci divertiamo, i lavori ne abbiamo, i progetti anche Ma adesso direi bello perché il primo giorno è sempre un'occasione di ritrovarsi, incontrare questi ragazzi Noi, io ho visto un po' le varie sedi e adesso mi riprometto domani di vederle tutte e completare il giro, diciamo così A tutti sono garantite classi e locali adeguati e funzionali